È vero, la Svizzera è uno Stato piccolo, però la Svizzera deve fare anche lei la propria parte, perché le emissioni a livello mondiale devono arrivare a zero entro il 2050, quindi tutti, tutti devono fare la loro parte. Allora, che gli Stati Uniti non partecipano o si siano ritirati dagli accordi di Parigi è gravissimo. Purtroppo noi come Svizzera non possiamo andare a convincere Trump, non saremo noi che riusciamo a convincere a ritornarci. Noi possiamo fare la nostra parte, sfruttare questa occasione, perché è un'occasione, è una grande opportunità e poi quando avremo fatto la nostra parte, avremo portato le emissioni a zero, avremo costruito una conoscenza, un know-how che potremo anche esportare all'estero e in questa maniera anche sostenere a tutto vantaggio della nostra economia, tra l'altro. E vorrei fare a questo riguardo anche due cifre. Uno è 13 miliardi. 13 miliardi di franchi sono quelli che mandiamo annualmente all'estero per finanziare i combustibili fossili. 13 miliardi all'anno che potrebbero essere investiti in Svizzera per energie rinnovabili pulite che creano alto valore aggiunto in patria, qua da noi. E l'altra cifra che vorrei fare sono 5,6. 5,6 di nuovo miliardi che il Parlamento, che il Consiglio nazionale, vuole mandare all'estero a compensare le emissioni di CO2. Allora io mi dico, ma siamo anche un po' stupidi. Siamo anche un po' stupidi perché questi 5,6 miliardi destinati alle compensazioni di CO2 li potremmo spendere in Svizzera di nuovo creando valore aggiunto, di nuovo creando posti di lavoro che siano veramente dei posti di lavoro ad alta qualità e non dei posti di lavoro come quelli che purtroppo si sono creati negli ultimi decenni in Ticino. La svolta climatica è un'opportunità e la Svizzera non deve lasciarsi sfuggire questa occasione. Grazie a tutti.